amici di planet tv che bello non capisce mai niente ti avevo detto vestiamoci una cosa insieme uguale, tra l'anno scorso cowboy e o cowgirl e ti ho detto ti ho detto ci vestiamo da fatina e pinocchio eh vabbè la fatina e finocchio eccolo qua pinocchio no pinocchio vabbè io sono una vergogna per tutti quegli uomo si suoi però siccome noi siamo sceni abbiamo deciso di portare la carta vincente è meravigliosa la più bella di questa sera naturalmente si vede che è una stilista la matta la donna di cuori non è la matta è la matta è la matta la stanza mardini eccolo qua lo staff di planet laura tocca fondi il nostro il vestito di pinocchio di turismo la valle siamo a Castelnuovo e Magra a fare la festa di carnevale più bella della Toscana come vi consueto anche quest'anno verranno premiate le migliori maschere non so se avete visto il tabellone con i premi quindi potete già farvi un'idea a partire da il ricamo per uccelli fino al percorso benessere facciamo un applauso ai ragazzi che hanno organizzato questa splendida serata grazie grazie vi do il benvenuto innanzitutto a voi perché siete sempre presenti quando ci sono delle feste di questi livelli qua abbiamo organizzato questa magnifica serata io e il mio amico Mario è il decennale della festa carnevalesca speriamo che continui che ci sia Ado che ci sia Ado quei puffi la puffetta ci sono proprio tutti ci sono tutti in questa festa è il numero uno delle feste di carnevale che ormai è anni che tu l'organizzi insieme a Mario però ultimamente ho organizzato tantissime belle cose anche con Ado pensavo che il reparto Versiglia l'organizzo con Ado il reparto spettino invece il reparto Versiglia ecco la farfalla della Belen sono una Winx come sei la farfalla? sono una Winx vestito così lo sai che non ci puoi provare con nessuna? no però c'è stata una dispensa particolare del Vaticano il Vaticano ha detto stasera si può solo stasera solo stasera solo stasera è tutto blu tutto blu tutto blu tutto blu abbiamo schettino qua aiuto è vero il naso non lo direi in giro per io sono il testimone all'infostrada quindi esigo rispetto il mio Marco Baldini il mio amico Marco Baldini e il naso ci siamo siamo lì trilli e corsaro che però non è uncino cioè l'uncino ce l'ha ma non si vede ecco viene fuori quando trilli quando trilli vola vola lì vicino ma non era così non era qualche storia era questa abbiamo scritto a loro abbiamo scritto a loro nuovi autori ho capito quanti anni avete? io 33 vedi eterni Peter Pan altro che uncino grande successo anche questo giro sì diciamo che mi sembra la gente abbia risposto entusiasmo c'è tutti vestiti tutti in maschera ora bisogna vedere chi riuscirà a prendersi i premi migliori ragazzi i premi sono simpatici tutto si incastra perfettamente vero? come un te bisogna verificare bene l'incastro ragazzi che c'è hanno superato anche l'ultimo livello bravissimi premio hai vinto il decimo premio grazie che cos'era il richiamo per uccelli basta fischiare ma sai a caccia sempre, perenne, caccia perenne riappapapam, 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 riappapapam cosa ci vuole si risa per far successo con la gente si perde un filo all'azzo importante vince il nuovo premio il crociato il crociato non ho posto non ho posto hai investito hai investito mi hanno investito mi hanno investito ma io resisto, ho lo scudo non ho la spada ma ho la fede e quindi brava bravissima devo pescare una carta non posso pescare una carta perchè lui ha l'asso nella manica ha proprio l'asso proprio no, il pirata non ce l'ha ruba mazzo ruba mazzo prendiamo tutto le vie del signore sono infinite che è bacio allora eccoli qua l'ottavo premio bellissimo, l'ottavo premio per la maschera l'agenda del 2011, siamo già nel 2012 è già tanta roba però, siamo a ridosso grazie, grazie è un problema di spread è un problema di spread è un problema di spread eh sì ma lui è in calo, ma te sei salita perché quando vedono lui, cala quando vedono lei, sale abbiamo la ballerina di Can Can no sì adesso la Gian Rettiera è bella, è dei nostri è l'amica di Planet TV settimo posto il Zorro di Noi Artri del 2012 Zorro Zorro con tre R con tre R perché c'è un tanto Zorro gli anni passano e passano anche per Zorro quindi il nostro fotografo Marco Meini Marco Meini è un piacere sempre rivedervi io sono qua sempre a scattare puntuale vogliamo dire come possiamo trovare le foto di stasera? queste foto le possiamo trovare su Facebook, su Planet TV su Facebook, su Planet TV e sul mio personale Facebook Marco Meini tell me boy tell me boy tell me boy è il primo anno che vengo che riesco a venire e sono contenta di essere lei è una carissima amica di Planet TV ah lo vuoi tutti insomma lei è la nostra odalisca di stasera Gettisti Madonna, me lo vedevo neri, eh Come lo guardate voi il futuro? Bianco Sesto posto, Visitor La sesta maschera più bella Devo ringraziare lui, ha fatto tutto lui, ma ha truccato Perché io non ti ricordi nemmeno chi sono i Visitor te Hai capito, no? Ecco, ecco Il visitatore, famosa, sarebbe in cima Bravi, complimenti Grazie Il quinto posto è secondo me la maschera più bella Perché qui si maschera poco, certo Qui si maschera poco Qui non si maschera niente A me, a me scappa Luzello Mira e il risultato A me è scappato È scappato, è scappato, ora non lo so È scappato Quarto posto Alla storia FBI Ho trovato uno dell'FBI Veramente, eh La famosa FBI, guarda Questo è l'FBI, vero? Sì Quindi, femmina buona italiana La cercavo io l'FBI La cercavo Che, vedi, accanto ha invece un uomo dell'FBI No Ovvero un free po' Italia Lo sai perché è free? Perché è il pistolino Ah Terzo classificato La famiglia Io penso E allora Lui soprattutto Ha sbagliato festa Non è Halloween È carnevale Ah sì Sì Perché penso che la maschera di Schettino Vada meglio per Halloween Però le maschere Vanno anche in attualità Si fanno altre banali di Schettino E la mondava Io non so il marino Io non so il marino Io non so il marino So il capitano So il capitano So il capitano Ma insieme Bah 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 Maria Luce e Gian Piero Noi siamo i moralisti dei soliti idioti Maria Luce e Gian Pietro Perché è normale È normale È normale È normale Lanciamo la palla Un'altra maschera Alla valle È un premio importante Qua alla valle Località Castelnuovo Magra Vieta di Colline 24 Ladies And gentlemen And gentlemen Vincono Questa edizione Del carnevale 2012 Profezia Maya Di Bedini Cagetti Mori Dirige l'orchestra Dentarto Il calendario Desertificazione Effetto Serra Maya Pioggia Fuoco Glaciazione Mario Bravo Un successone Ancora Ancora Carnevale Qua Sempre Qui siamo Qui turismo La valle Che C'è miglioria Vedo che ci sono Un parco Stiamo facendo E poi dopo Diventerà una cosa Anche Siccome i ragazzi La vogliono fare Tutti gli anni Anche in piscina D'estate D'estate In costume Non in maschera Molto meglio D'estate È un posto magnifico Poi siamo In un posto straordinario A Castelnuovo di Magra E naturalmente C'è anche il divertimento L'aria buona L'aria buona Bravo Sarà perché Io Tontolo Saranno gli occhi tuoi Che brillano Ma vedo Mille 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 Lucciole Venimmi incontro Insieme Insieme A te La musica curata Da Matteo E Federica Ciao a tutti Buonasera Questi sono i soldi Che hai Dei Dollaro Quello che è rimasto Quello che è rimasto Uno Bravi Bravi Bravissimi Grazie Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti